Intel non mi ha pagato affatto per fare questo video, sia ben chiaro, e infatti probabilmente me ne accorgerete nei primi 5 minuti, però si è parlato tanto in queste settimane dei Ryzen lisci, quindi 7600 eccetera eccetera, si è parlato molto dei 3D, quindi dei X3D, però non so se voi avete notato, ma da diversi giorni sono disponibili su Amazon anche i processori di fascia bassa di 13000, ok, di Intel, che sono molto interessanti, nonché proprio qualche giorno fa Intel ha presentato e sono venute fuori le recensioni del top di gamma in assoluto super mega power, il 13900KS. Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video, bentornati qui, ma che carini che siete, ma grazie che vi state iscrivendo, grazie proprio tu che ti sei appena iscritto, ma grazie del sostegno, mi fa piacere che sfondiate quel tasto iscriviti, giù in descrizione, raga, c'è il canale delle grandi offerte, che fate? Non gli date uno sguardo, visto che cerchiamo sempre tutti gli ultimi affari e le offerte, molti di voi mi dicono, ma tu perché sponsorizzi Amazon? Io non è che sponsorizzo Amazon, però di solito su Amazon si trovano le migliori offerte e soprattutto gli errori di prezzo, anche se ultimamente con le schede video Amazon sembra quasi quasi che abbia imparato la lezione e ce la sta facendo pagare. In ogni caso, partiamo subito a parlare di quello che è stato il lancio di gennaio, il 13900KS. Questo mostro che come il fratello della precedente generazione era il 12900KS, altro non è che un 13900K praticamente boostato a merda più che si può. 200MHz in più sui P-Core, quindi questo processore out of the box dovrebbe raggiungere i 6Ghz almeno su uno dei suoi 8 P-Core e ovviamente anche il base clock è stato aumentato e portato fino a, mi sembra, 3,2 GHz, mentre invece gli i-Core non sono stati minimamente toccati, perché già così questo processore consuma e scalda un botto, ok? E c'è stata anche la recensione del nostro carissimo hardware run box, di cui vi faccio vedere qualche piccolo screen, dove semplicemente, vabbè, c'è stato un aumento di performance sul, diciamo, multicore di Cinebench di quasi il 10% e anche in gaming, diciamo, c'è stato un aumento di qualche punto percentuale. Peccato, peccato che qui c'è una bellissima immagine che questo processore tranquillamente tocca i 100 gradi, 100 gradi e va a consumare più di 256, ovviamente, Watt, quindi sembra la stessa storia. Non ci sta niente da fare, non c'è niente da fare perché non si può pensare di tenere un processore a 100 gradi, un Pure Loop 2 FX di Be Quiet, con tanto di contact frame di, diciamo, di supporto per abbassare le temperature. Vabbè, lasciamo perdere, perché la cosa più interessante in realtà è disponibile il 13400F, processore, secondo me, veramente interessante sotto tanti punti di vista. Perché? Perché voi sapete benissimo che il 12400F di passata generazione già era un processore ottimo dal punto di vista del gaming ed era un 6-core secco, erano tutti P-core per un totale di 12 threads. Il 13400F, invece, il nuovo Raptor, oltre ad avere i suoi bei 6P-core, ha anche 4 efficiency-core, quindi il conto dei core arriva a 10 ed è un processore molto, ma molto più simile, in realtà, al 12600K, che ha lo stesso numero, bene o male, di core, ha delle frequenze leggermente più elevate perché arriva a toccare i 4,9 GHz, mentre il 13400F si ferma a 4,6, però, voglio dire, sono due processori molto simili. E anche dal punto di vista delle performance vedremo che, in effetti, non c'è tantissima differenza. Un processore interessantissimo, ragazzi, che probabilmente vedremo a breve, è il 13500, perché, in realtà, è un 13400, solo che, invece di avere 4 e-core, ne ha 8, ok? Quindi il totale dei core arriva a 14. È un i5 che arriva a 14 core fisici, ragazzi, è tanta, tanta roba, anche se si tratta di 8 e-core, ma danno comunque un buon boost prestazionale, soprattutto in tutti quelli che sono gli ambiti di produttività. Quindi questo, probabilmente, lo vedremo e ci faremo una recensione sul canale. Tornando a parlare del 13400F, ovviamente, Hardware Lux, qui abbiamo una recensione dove la differenza con il 12400F non è proprio marcatissima dal punto di vista del single core, perché, diciamo, abbiamo un aumento di circa il 6-7% di prestazioni, ma dal punto di vista, sicuramente, del multi-core è ovvio che il 12400 perde più del 30% di performance nei confronti del 13400, perché il numero di core aumenta e, in questo caso, impatta parecchio per quanto riguarda i bench. In gaming, ovviamente, la situazione migliora, la differenza non è così netta e così marcata, però potete tranquillamente vedere come un processore del genere arriva anche alle performance di un 5800X e non si discosta poi tanto da quelli che sono i risultati del 12600K. Considerate comunque che io, in questo caso, sto prendendo Drift Breaker come esempio, di Hardware Lux, che è un gioco abbastanza CPU intensive, quindi dovrebbe rimarcare un po' le differenze. Quanto costa questo processore? Ricordate che il 12400F si trova ormai stabile da diverso tempo sulle 187€, che è un buon prezzo perché con questo processore si possono fare tutta una serie di build molto interessanti ancora in questo momento, il 13400F in realtà costa una cinquantina di euro in più. Fate conto che se voi comprate un processore del genere potete tranquillamente sfruttare ancora le B650, le B660, scusatemi, magari con DDR4 e il costo che è intorno ai 200€ di una scheda madre più i 250€ del processore più 50€ di RAM 16GB DDR4, voi con 500€ riuscite a farvi una piattaforma molto decente con il 13400F, non solo per giocare con schede video anche di fascia elevata, ragazzi non è qua stiamo parlando che dobbiamo mettere la 3060 o la 3050, qua ci possiamo mettere tranquillamente anche schede come la 3080 o schede superiori e inoltre avete una buona macchina anche per quanto riguarda tutto l'ambito produttività e tutti quei software che in realtà sfruttano il multicore perché bene o male, avendo 10 core fisici, voi riuscite a gestire un po' tutto considerate che io ho un 12600K nel mio computer e ci faccio tutto quello di cui ho bisogno per questo canale, quindi edito i video, gestione dei software, dei programmi di registrazione faccio completamente tutto senza problemi, è un 13400F, abbiamo visto che alla fine non si distacca poi così tanto dalle performance di un 12600K il discorso della B760, già diciamo le vediamo in giro, ma hanno dei prezzi molto elevati e alla fine ragazzi devo essere sincero, oltre a quei pochi vantaggi che magari un chipset più nuovo vi può dare a livello di elettronica, a livello di componentistica, a livello di PCB le schede madre sono praticamente quasi identiche alle B660, cioè l'abbiamo già detto, l'abbiamo già visto per quanto riguarda le Z790, non c'è tutta questa differenza, quindi sinceramente potete anche andarvi a risparmiare i soldi e prendere una B660. La questione è diversa nel caso di Ryzen, perché è vero che hanno lanciato il 7600X che bene o male tanto costerà, intorno alle 250€ forse qualcosa in meno e poi lo vedremo mano a mano calare. Il problema qual'è? che per una B660, B650 dovete spendere almeno 250€, almeno la meno costosa costa 221€, quindi già spendete qualcosa in più. Ci dovete abbinare le DDR5 che sicuramente sono un vantaggio e alla fine andate a spendere molti più soldi. È vero, tutto quello che volete voi, una piattaforma LGA 1700 in questo momento non è longeva come può essere una B650, è un socket che a fine anno probabilmente sarà sostituito, però ragazzi voglio dire, nel momento in cui voi ve lo comprate, risparmiate un bot di soldi con 1000-1200€, una buona scheda video, voi ci fate una macchina completa per qualsiasi tipo di utilizzo e magari più avanti potete anche considerare l'upgrade ad un processore superiore, se il problema è il processore. Andatevi a prendere un 13900 liscio fra un anno che magari costerà molto di meno e avete fatto tutto quello che volete, c'è sempre questo aspetto da tenere in considerazione. Quindi che cosa dire, a me farebbe molto piacere se riuscissi a portarvi o il 13500 o il 13400F e anche magari vedere una B760, di queste nuove per capire un attimo diciamo che tipo di schede matri, come sono fatte, come si comportano con questi processori 13000, fatemelo sapere se questa cosa vi potrebbe interessare perché dipende anche da voi, dal vostro supporto, dal feedback che voi mi date perché ovviamente poi io mi devo muovere, devo cercare come recuperare queste componenti. Va bene, per questo video è tutto, io vi ringrazio e se stati qui con me come sempre iscrivetevi al canale, noi ci vediamo prossimamente ragazzi, ciao!